Sì, situazione inaspettata, credo che tutto quello che poteva non essere come da previsione si è rivelato. La situazione è difficile, però alla fine è una grossa soddisfazione andare, credo che sia importante per tutto il movimento partecipare a questo mondiale, crea nuove opportunità, qualche ragazzo magari che non avrebbe mai pensato di poter venire sicuramente avrà dell'opportunità per farsi vedere e dimostrare qualcosa di più. Logicamente abbiamo perso dei giocatori importanti, dei leader, che però saranno con noi probabilmente in futuro. Abbiamo perso l'allenatore, la sfida sarà importantissima anche per noi come coaching staff, per me in particolar modo. Mi aspetto, non so sinceramente cosa aspettarmi, visto le novità che succedono tutti i giorni, però mi auguro di essere all'altezza e mi auguro soprattutto di poter dare qualcosa ai ragazzi e soprattutto che questa squadra alla fine del torneo sia una squadra migliore e che riusciamo tutti ad avere delle esperienze difficili, ce le aspettiamo, però formative e che faranno crescere questo gruppo e magari crescere anche qualche giovane per l'occhio italiano.